Stanco di prodotti che non puliscono davvero il tuo marmo? Scopri Unipool. È ideale per la pulizia ordinaria a basse concentrazioni e per la pulizia straordinaria ad alte concentrazioni su tutte le superfici dure. È un detergente a bassa schiumiosità e può essere usato con macchine in lavasciuga, non lascia luni sul materiale e rilascia un grandevole profumo nelle ambienti. È facile da usare, versa una piccola quantità di prodotto diluito in acqua su un panno e pulisci la superficie di marmo. Unipool è un detergente super concentrato a pH nautro, in grado di pulire e sgrassare superfici con presenza di sporco ordinario straordinario e inoltre, grazie alla sua formula avanzata, di ridurre i depositi di calcare nell'acqua domestica, il tutto senza rovinare il tuo marmo. Unipool è diverso dagli altri perché pulisce lo sporco ordinario e straordinario. Sgrassa la superficie e riduce i depositi del calcare presente nell'acqua domestica, tutto senza corrodere il marmo. Mantieni il tuo marmo perfetto con Unipool. Ordina su marbec.it